Hai mai pensato che dietro uno sguardo si nasconda un intero universo? Che, attraverso gli occhi, possiamo cogliere la vera essenza di una persona, la sua anima più autentica? Oggi, su Whispers of Wisdom, esploreremo uno dei segreti più potenti della nostra esistenza. Gli occhi, la finestra dell'anima. Questa frase, spesso ripetuta, è molto più che un semplice detto. È un invito a guardare oltre le superfici, oltre le apparenze. Gli occhi rivelano chi siamo veramente, e chi abbiamo il potenziale di diventare. La profondità che cerchiamo nelle connessioni umane si trova proprio lì, nello sguardo di chi incontriamo, e nel nostro stesso riflesso. Ciò che i tuoi occhi raccontano va oltre le parole, oltre i gesti. Sono lo specchio che riflette il tuo mondo interiore, fatto di emozioni, pensieri e vibrazioni. Ogni sguardo che incrociamo ci parla, anche quando non ce ne accorgiamo. La saggezza che si cela dietro uno sguardo può illuminare l'anima di chi è disposto a vedere. E non si tratta solo di guardare gli altri, ma anche di guardarsi dentro, con autenticità, senza paura. È qui che inizia la vera trasformazione. Spesso ci dimentichiamo del potere del nostro sguardo. In un mondo sempre più dominato dalla fretta e dalle distrazioni, abbiamo perso la capacità di fermarci, di incontrare davvero l'altro, anima-anima. Eppure, proprio attraverso gli occhi, possiamo trovare quella connessione profonda che tanto cerchiamo, quella verità che non ha bisogno di essere spiegata. La luce dell'anima si esprime attraverso gli occhi e, se permettiamo a noi stessi di vedere e di essere visti, scopriamo un livello di consapevolezza e comprensione che va oltre ogni parola. Non c'è bisogno di cercare fuori ciò che è già dentro di te. Guardando nei tuoi occhi, puoi accedere a una verità profonda, una verità che forse hai dimenticato, ma che è sempre stata lì, pronta a rivelarsi. È una verità che parla di forza, di amore, di autenticità. E quando inizi a riconoscerla in te stesso, la vedrai anche negli altri. La tua anima brilla attraverso i tuoi occhi, e chi ha la sensibilità di vedere non può fare a meno di riconoscerla. Questo è un percorso che richiede coraggio, richiede la volontà di andare oltre le apparenze, di non fermarsi alla superficie. Ogni sguardo che incrociamo è un'opportunità per conoscere meglio noi stessi e gli altri. È un invito ad aprirci a un livello di connessione più profondo e autentico. In questo viaggio verso la consapevolezza, la tua anima si riflette nei tuoi occhi, e gli occhi di chi incontri ti offrono uno specchio per esplorare il tuo essere più profondo. Ti invito a restare con noi, su Whispers of Wisdom, per esplorare questo incredibile tema insieme. Se senti che questo messaggio risuona con te, se desideri connetterti in modo più profondo con la tua essenza e quella degli altri, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere i nostri futuri contenuti, e lascia un like per supportarci in questo viaggio di crescita e consapevolezza. Gli occhi, specchio dell'anima. Gli occhi sono molto più di semplici strumenti che ci permettono di vedere il mondo esterno. Sono porte che ci collegano a un livello di consapevolezza più profondo, una finestra attraverso cui la nostra vera essenza si manifesta. Ogni emozione, ogni pensiero, ogni sensazione che scorre dentro di noi trova espressione nei nostri occhi. Il modo in cui guardiamo il mondo, le persone, e persino noi stessi, riflette il nostro stato interiore. Questo è il motivo per cui, quando ci immergiamo nello sguardo di qualcuno, non stiamo solo guardando una persona fisica, ma stiamo leggendo un capitolo della sua anima, come un libro aperto davanti a noi. Gli occhi rivelano verità che spesso cerchiamo di nascondere con le parole. Possono comunicare quello che la bocca non osa dire, mostrando vulnerabilità, emozioni non espresse, gioie e dolori che abitano nel profondo. Non c'è bisogno di spiegazioni, basta uno sguardo per comprendere una realtà interiore che sfugge a chi non è attento. Ogni sguardo è unico, perché porta con sé l'intero bagaglio di esperienze, sogni e ferite di una persona. Quando ci fermiamo a guardare davvero, ci rendiamo conto che siamo di fronte a una dimensione che va oltre l'apparenza fisica. Ecco perché si dice che gli occhi non mentono. Anche quando cerchiamo di controllare il nostro linguaggio corporeo o di nascondere i nostri sentimenti, gli occhi continuano a rivelare la verità. Nell'arte di osservare e di lasciarci osservare, c'è una profonda vulnerabilità. È come se, attraverso lo sguardo, ci aprissimo all'altro senza difese, mostrando il nostro vero io. Molte persone evitano questa connessione perché temono di essere viste per quello che sono veramente. Eppure, è proprio in questo atto di apertura che si nasconde il potere più grande. Quando accettiamo di essere visti attraverso i nostri occhi, accettiamo anche di riconoscere la nostra stessa autenticità. Diventiamo consapevoli della nostra luce, ma anche delle nostre ombre. E così, come uno specchio che riflette l'anima, gli occhi ci mostrano chi siamo realmente, nel bene e nel male. Guardare qualcuno negli occhi è un atto di profonda intimità e fiducia. Non significa solo vedere l'altro, ma riconoscerlo a un livello più alto. Gli occhi sono il ponte tra due anime che si incontrano, oltre le parole, oltre le maschere che spesso indossiamo. In un mondo pieno di distrazioni, in cui gli schermi hanno sostituito il contatto diretto, abbiamo perso il valore di questo semplice, ma potente, atto di connessione. Eppure, è proprio attraverso lo sguardo che possiamo riscoprire la vera essenza delle persone intorno a noi. È uno spazio in cui l'ego si dissolve e rimane solo la verità dell'essere. Quando iniziamo a sviluppare questa consapevolezza, ci rendiamo conto di quanto possiamo imparare dagli occhi di chi incontriamo. Non si tratta solo di leggere le emozioni, ma di percepire l'energia che emana dall'anima. Ogni sguardo è un invito a una maggiore comprensione, a una connessione autentica e profonda. E non serve parlare, non servono spiegazioni. Gli occhi parlano da soli e sanno raccontare storie che le parole non potrebbero mai esprimere. Ogni volta che incrociamo lo sguardo di qualcuno, è come se il tempo si fermasse per un istante, permettendoci di accedere a una dimensione più intima e vera. In quell'istante, non esistono maschere, non esiste finzione. Solo la pura essenza di chi siamo. È un invito a riconoscere non solo l'altro, ma anche noi stessi, riflessi in quello sguardo. I tuoi occhi, come quelli di chi incontri, sono porte aperte verso un mondo interiore che attende solo di essere esplorato. Il potere invisibile dietro lo sguardo. Dietro ogni sguardo si cela un potere invisibile, una forza sottile che agisce a un livello più profondo di quanto possiamo immaginare. Questo potere non si manifesta solo nel momento in cui guardiamo gli altri, ma anche nel modo in cui vediamo noi stessi e il mondo che ci circonda. Lo sguardo, infatti, non è solo un atto passivo. È un atto creativo, capace di plasmare la realtà intorno a noi. Ciò che guardiamo con attenzione e intensità diventa parte di noi, influenzando il nostro pensiero, le nostre emozioni e, infine, le nostre azioni. E così, come l'acqua che leviga la pietra, il nostro sguardo modella il mondo interiore ed esteriore. Esiste una connessione profonda tra ciò che vediamo e ciò che attraiamo nella nostra vita. Quando guardiamo con occhi pieni di gratitudine, amore e comprensione, l'energia che emaniamo ritorna a noi amplificata. Il nostro sguardo diventa uno strumento di trasformazione. Non si limita a osservare, ma partecipa attivamente alla creazione di esperienze e relazioni significative. Ogni volta che posiamo lo sguardo su qualcuno o su qualcosa, stiamo dando la nostra attenzione, stiamo riversando energia. E questo atto di attenzione è un modo per influenzare ciò che accade intorno a noi. Lo sguardo non è solo uno specchio dell'anima, ma anche una lente attraverso cui percepiamo il mondo. E quella lente può essere colorata dalle nostre esperienze passate, dalle nostre convinzioni e dalle nostre emozioni. Se guardiamo il mondo con occhi pieni di paura o giudizio, tutto ciò che vediamo sarà filtrato da queste emozioni. Ma se impariamo a purificare il nostro sguardo, a renderlo limpido, possiamo iniziare a vedere la bellezza e l'autenticità che ci circondano. E non solo. Possiamo vedere con maggiore chiarezza la nostra strada, i nostri sogni e il nostro vero potenziale. Dietro lo sguardo si nasconde anche un potere magnetico, capace di attrarre a noi ciò che desideriamo. Non è un caso se le persone che sanno guardare con intenzione e consapevolezza riescono a manifestare con più facilità i loro desideri. Questo perché il loro sguardo non si limita a osservare passivamente, ma agisce come un faro che attira le esperienze, le opportunità e le persone giuste. C'è qualcosa di profondamente misterioso e affascinante in questa dinamica. È come se, guardando il mondo con una mente e un cuore aperti, permettessimo all'universo di rispondere alle nostre vibrazioni. Ogni sguardo, quindi, diventa un atto di creazione. Non guardiamo solo per vedere, ma per creare, per influenzare, per trasformare. E quando ci rendiamo conto di questo potere, tutto cambia. Il nostro modo di relazionarci con il mondo si trasforma e iniziamo a vedere ogni interazione come un'opportunità di crescita e scoperta. Gli occhi non sono più semplici strumenti fisici, ma canali attraverso cui la nostra energia fluisce, toccando tutto ciò su cui posiamo lo sguardo. Questo potere invisibile è sempre stato lì, dentro di noi, in attesa di essere risvegliato. E quando iniziamo a usare il nostro sguardo con consapevolezza e intenzione, scopriamo una nuova dimensione della realtà. Una dimensione in cui la percezione diventa creazione, in cui possiamo influenzare positivamente tutto ciò che ci circonda semplicemente cambiando il modo in cui guardiamo. Lo sguardo interiore, vedere oltre l'apparenza. Quando parliamo dello sguardo, spesso ci riferiamo solo alla capacità di vedere ciò che è fisicamente presente davanti a noi. Ma c'è uno sguardo più profondo, uno sguardo interiore, che va oltre l'apparenza e ci permette di cogliere la vera essenza delle cose. Questo sguardo non è legato alla vista fisica, ma è una percezione che nasce dal cuore e dalla consapevolezza. È la capacità di guardare oltre la superficie, di vedere ciò che non è immediatamente visibile agli occhi, ma che può essere sentito e compreso attraverso l'intuizione e la sensibilità. Lo sguardo interiore è quel potere che ci permette di leggere tra le righe della vita, di percepire il non detto, di cogliere la verità nascosta dietro ogni esperienza e ogni relazione. È la capacità di vedere con gli occhi dell'anima una visione più ampia e profonda che ci mette in contatto con le forze invisibili che governano la realtà. Quando sviluppiamo questo sguardo, non ci limitiamo più a giudicare il mondo dalle apparenze, ma iniziamo vedere ciò che conta davvero, le energie, le intenzioni, i sentimenti e le vibrazioni che permeano ogni situazione. Vedere oltre l'apparenza significa imparare a guardare le persone, le situazioni e perfino noi stessi con maggiore comprensione e compassione. Spesso ci fermiamo alla superficie, giudichiamo ciò che vediamo in modo superficiale, senza renderci conto che dietro ogni azione, ogni parola, ogni comportamento, c'è una storia, c'è un mondo interiore che non possiamo comprendere a fondo senza quello sguardo più attento. Quante volte ci fermiamo a osservare solo le maschere che le persone indossano senza mai provare a intravedere cosa c'è dietro? Eppure, dietro ogni maschera, c'è un'anima che desidera essere vista per ciò che è veramente. Quando iniziamo a sviluppare il nostro sguardo interiore, non vediamo più solo il corpo fisico di una persona o la sua immagine esteriore. Iniziamo a percepire le sue emozioni, i suoi pensieri, le sue paure e i suoi desideri. Questo non significa invadere la privacy altrui, ma entrare in contatto con un livello di comprensione più profondo, dove l'empatia e la compassione ci guidano. Questo sguardo ci insegna a essere più pazienti, più aperti e più rispettosi, perché comprendiamo che ognuno di noi sta lottando con le proprie battaglie interiori, anche se non sempre lo mostra. Il vero potere di questo sguardo interiore sta nella sua capacità di farci vedere le possibilità dove prima vedevamo solo ostacoli. Quando guardiamo il mondo con gli occhi dell'anima, non vediamo più solo i problemi, ma anche le opportunità nascoste. Non vediamo solo il dolore, ma anche la crescita che può nascere da esso. Non vediamo solo le ombre, ma anche la luce che illumina ogni angolo buio. È uno sguardo che ci permette di andare oltre le limitazioni imposte dalla mente e di aprirci a una visione più ampia e completa della realtà. Questa visione più profonda ci insegna che tutto ha un significato, che ogni esperienza, anche la più difficile, ha qualcosa da insegnarci. Ci invita a fidarci di ciò che sentiamo oltre ciò che vediamo, a seguire il nostro intuito anche quando la logica sembra dirci il contrario. Lo sguardo interiore ci collega a una saggezza antica, a una conoscenza che risiede dentro di noi e che aspetta solo di essere risvegliata. E quando ci apriamo a questo tipo di visione, scopriamo che il mondo non è mai come appare a prima vista. È molto di più. È un riflesso di chi siamo dentro, di ciò che proviamo e di ciò che crediamo. Attraverso questo sguardo possiamo vedere la bellezza nascosta in ogni momento, anche quelli più difficili. Possiamo vedere il potenziale nelle persone, nelle situazioni e, soprattutto, in noi stessi. Questo sguardo è un dono che ci permette di trasformare la nostra vita e di creare una realtà più autentica e significativa. Una realtà in cui non siamo più spettatori passivi, ma creatori consapevoli del nostro destino. La connessione tra lo sguardo e l'energia dell'anima. Lo sguardo è molto più di un semplice atto fisico. È una manifestazione diretta dell'energia interiore. Ogni volta che i nostri occhi si posano su qualcuno o qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi stessi, emettendo una vibrazione che parla della nostra essenza. È come se lo sguardo fosse un ponte tra l'interno e l'esterno, un canale attraverso cui la nostra energia più profonda fluisce verso il mondo. Non è solo un gesto, ma un'espressione del nostro stato d'animo, delle nostre intenzioni e delle emozioni che viviamo in quel momento. Ecco perché un solo sguardo può trasmettere tanto, senza bisogno di parole. Può essere dolce e rassicurante, o penetrante e intenso, capace di toccare le corde più profonde dell'anima di chi lo riceve. Questa connessione invisibile tra il nostro sguardo e l'energia dell'anima è una verità universale che attraversa culture, epoche e filosofie. Gli antichi saggi lo sapevano bene. Lo sguardo è una forza sottile che può guarire, ispirare e trasformare. Quando guardiamo qualcuno con intenzione, stiamo trasmettendo la nostra vibrazione energetica e quella vibrazione ha il potere di influenzare l'altro in modi che spesso sfuggono alla comprensione logica. È per questo che si dice che gli occhi non mentono. Essi riflettono esattamente ciò che siamo dentro, senza filtri, e chiunque, a un livello più profondo, può percepire la verità di uno sguardo autentico. Ogni volta che incontriamo qualcuno, il nostro sguardo racconta una storia che va ben oltre le parole. Trasmette fiducia, paura, amore, rispetto o insicurezza. E non è solo questione di ciò che stiamo provando in quel momento. Il nostro sguardo è influenzato dalla nostra storia personale, dai nostri sogni, dalle nostre ferite e dalle nostre esperienze. È come se gli occhi fossero un riflesso del nostro viaggio interiore, un viaggio che si rivela in ogni interazione. Quando il nostro sguardo è limpido, aperto e pieno di luce, comunichiamo armonia e pace. Quando è offuscato da emozioni negative, proiettiamo ombre che gli altri possono percepire senza neanche rendersene conto. Questa connessione tra lo sguardo e l'energia dell'anima diventa ancora più potente quando la usiamo consapevolmente. Quando ci rendiamo conto che attraverso il nostro sguardo possiamo influenzare la realtà intorno a noi, iniziamo a prestare maggiore attenzione a come guardiamo il mondo e le persone che ci circondano. Possiamo scegliere di usare il nostro sguardo come strumento di amore, di compassione, di guarigione. Possiamo imparare a guardare con occhi che non giudicano, ma comprendono. Con occhi che vedono oltre l'apparenza e riconoscono l'anima dietro ogni volto. In ogni sguardo c'è un'energia che viaggia. Se guardiamo qualcuno con amore autentico, quella persona sentirà quell'amore, anche se non ne è consapevole. Se guardiamo con rabbia o paura, quell'emozione sarà altrettanto percepibile. È per questo che dobbiamo diventare custodi consapevoli del nostro sguardo, sapendo che ogni volta che osserviamo, stiamo contribuendo a plasmare l'energia dell'ambiente e delle persone intorno a noi. Guardare con intenzione positiva non significa semplicemente sorridere con gli occhi, ma essere presenti, aperti e ricettivi, pronti a riconoscere l'altro come un riflesso di noi stessi. La connessione tra lo sguardo e l'energia dell'anima ci invita anche a riflettere su come ci guardiamo noi stessi. Lo sguardo che rivolgiamo a noi stessi, allo specchio o nelle nostre riflessioni interiori, influenza profondamente la nostra autostima, la nostra crescita e la nostra evoluzione. Guardarci con amore e accettazione, riconoscendo la nostra bellezza e il nostro valore, è un atto di guarigione profonda. È come dare alla nostra anima il permesso di brillare, di esprimersi pienamente, senza paura di essere vista per ciò che è realmente. In quel momento, il nostro sguardo diventa uno specchio dell'anima, capace di riflettere tutta la luce che portiamo dentro. Abbiamo esplorato insieme il potere straordinario dello sguardo, questo canale invisibile che ci connette non solo con gli altri, ma soprattutto con la nostra essenza più profonda. Ogni sguardo che rivolgiamo al mondo è una finestra aperta sull'anima, un gesto carico di energia e significato. Attraverso i nostri occhi esprimiamo chi siamo veramente, al di là delle parole, al di là delle maschere che indossiamo. È proprio in quello spazio sottile tra un battito di ciglia e un respiro che avviene la vera connessione con noi stessi e con il mondo. Imparare a guardare il mondo con gli occhi dell'anima significa iniziare a vivere con maggiore consapevolezza, aprirsi alla bellezza nascosta in ogni attimo e riconoscere l'essenza divina che vive in ogni essere vivente. Quando usiamo il nostro sguardo come uno strumento di amore e compassione, creiamo ponti invisibili che uniscono i cuori, ci avviciniamo agli altri e, allo stesso tempo, avviciniamo noi stessi alla nostra verità più autentica. Ma la vera magia avviene quando impariamo a guardare dentro di noi. È lì che lo sguardo diventa uno specchio, riflettendo non solo ciò che siamo oggi, ma anche il potenziale infinito di ciò che possiamo diventare. Guardarci con amore, con accettazione e con fiducia è il primo passo per trasformare la nostra vita, per guarire le nostre ferite e per scoprire la luce che brilla dentro di noi. Ora, è il momento di portare questa consapevolezza nel nostro quotidiano, di usare lo sguardo come un atto di creazione, di amore, di comprensione. Ogni incontro, ogni sguardo che rivolgiamo a una persona, a una situazione o a noi stessi, è un'opportunità per riconoscere la sacralità della vita e l'immenso potere che abbiamo di influenzare il mondo con la nostra energia. Per continuare a esplorare insieme questi profondi insegnamenti spirituali e motivazionali, vi invito a unirvi alla nostra comunità di Whispers of Wisdom. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun contenuto e lasciate un like per supportarci. Commentate e condividete i vostri pensieri, perché ogni parola è un ponte che ci connette sempre di più. Il vostro supporto ci permette di continuare a condividere saggezza, ispirazione e luce con il mondo.